Portogallo Sì, meraviglioso. Portogallo è un paese magnifico, bellissimo, da gente fantastica. Questo festival è veramente interessante. Mi avevano detto che era così bello, però non pensavo così affascinante. Quali consigli di dare ai direttori portuguesi? Andare al cinema molto spesso, vedere tanti film. Questa è l'unica strada per fare poi del cinema. Non ci sta altra strada. Andare al cinema, vedere il cinema e parlare di cinema. Questa è la nostra passione, il nostro amore. Senza questo amore, senza questa grande passione non si farà nulla. Portogallo ti inspira per il prossimo film? Portogallo è così interessante. Ci sono città fantastiche, come Sintra, ad esempio, che è meravigliosa per fare un film gotico. È molto interessante. È un bellissimo paese. I miei sogni, i miei sogni sono fondamentali per la realizzazione dei miei film. Perché è dai sogni che trago ispirazione per fare i miei film. È importante seguire i nostri sogni. È importante? Sì, seguire... ma il cinema è sogno. Il cinema è sempre... è un sogno perché nasce nella mente dei registi ed è un sogno prima di diventare realtà. È sempre un sogno. Il cinema è sogno. È un sogno. Il cinema è sogno. Il cinema è sogno per fare. Grazie a tutti